Il mondo, una dei sex symbol indiscussi del paese è purtroppo deceduta. Parliamo di Gina Lollobrigida. Il 16 gennaio la donna, attrice italiana di enorme successo, ci ha lasciati, lasciando alle sue spalle un grande segno. L'attrice è stata un idolo per moltissime persone. La sua bellezza e il suo talento hanno portato l'Italia, in tutto il mondo. È stata associata all'immensa Marilyn Monroe. La cucinotta ha scritto, ciao meravigliosa Gina Lollobrigida. Resterai per sempre nel cuore di tutti noi. Grazie a tutti.